C'è il serial killer lussurioso, c'è il serial killer giustiziere, insomma ce ne sono tanti tipi. Qual è il tuo preferito? Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 202 di Tintoria. Un applauso. E vai. Qui con me, meraviglioso, sempre più bello ogni puntata che passa, Stefano Rapone. Stefano, come stai? Non c'è male, non c'è male. Tu? Bene, un po' stanco dopo ieri. I bagordi di ieri. Sì, bagordi tutto sommato contenuti, però bella serata. Abbiamo festeggiato i dieci anni di matrimonio. No, i dieci anni che ci siamo conosciuti sul palco. Sì, non noi, altre persone, non siamo così romantici nella vita. Per questo c'è questo set così molto... Dietro ci sono ancora Francesco De Carlo, Saverio Raimondo e Edoardo Ferrari che è imbalsamati. Come è giusto che sia. Dai, bella serata. Sono bello, sì, sì. E che altro è successo? Sono molte novità, oltre al tendaggio. Sì, siamo questa puntata, siamo nelle 200. Nel 200, anche questo è un altro traguardo. E infatti non c'è più... Purtroppo c'è questo, è venuto a mancare. Dalla 200 non c'è più Ottavio. Abbiamo perso... Magari per voi non significa molto, ma per noi significa tanto. Insomma, mi sento un po' smarrito. Senza Otto che era... Faceva tutto, Otto si occupava di tutto e senza di lui sarà... Sarà... Se sei andato. Sarà dura. E proprio non riesco a immaginarmi di poter... La nostra vita senza Ottavio. La nostra vita senza Ottavio. Ragazzi! Ma... Ma... Che... Ragazzi! Ma chi è? Ma chi è? Cosa è questa voce? Chi è? Sono io. Sono Otto. Otto? Ottavio, ma... Otto, ma dove stai? Sì. Ma sei dietro le tende? Dove stai? Sono a Onolulu. Ma come sei a Onolulu? Ma ci hai detto che dovevi... Eh sì, no, sto seguendo la mia strada. La tua strada è un Onolulu, Otto. Ma... Scusa, come ci fai a parlare da Onolulu? Com'è possibile? No, è... Tramite l'etere. L'etere? Che vuol dire l'etere? Ma che è l'etere, Otto? L'etere... Mi fai un esempio. Che cos'è l'etere? È come se fosse il web. Ah! Ma... Ma non è pericoloso parlare così? Ma poi ti sentiamo benissimo, Otto, da Onolulu, senza interferenze. Ci deve essere... Una connessione portentosa, non... No, ragazzi, ma è chiaro. Cioè, uso NorVPN. Ah! Hai capito. È per questo che si sente così. Pazzesco. Ma come... Eh, stavo guardando... Come, come, come? Stavo guardando a puntata 200, la mia ultima puntata. Ah, certo. Poi ho cliccato sul link in descrizione, norvpn.com slash tintoria. E niente, mi sono preso... E niente, mi sono preso... Non quello sa bene, ho avuto a questa puntata. No. E scusa, hai cliccato sul link? Sì, super scontone. Pure quei due spicci che mi davate... Ah beh, adesso non serve fare polemica, Otto. È tutta acqua passata. Ce lo siamo lasciati alle spalle. Resta con noi, Otto. Non ti andare più. No, che bello sentirti. Devo andare, ci sono delle signore che mi chiamano. Come delle signore, Otto? Sì, delle signore anziane. Ma che stai facendo, Otto? È... Papi Yoga. Cos'è Papi Yoga? Colo con i cuccioli. Cos'è Papi Yoga, Otto? E io sono il cucciolo. Devo andare, ragazzi. Otto, non ci fa stare in pensiero. Resta qua, continua a parlare. No, devo andare, devo andare. Prima che te ne vai, Otto, dacci un messaggio di speranza, qualcosa di bello. Ricordatevi, basta un click. Grazie, Otto. È stato bello averti qui con noi, di nuovo, tutte queste puntate. Eppure oggi abbiamo fatto... Eppure oggi ce l'abbiamo fatta. E non daremo neanche un soldo al povero Otto. Al povero Otto, che è un lululu. Beh, non è certo grazie all'Ethere, che siamo arrivati a 202 puntate. E anche grazie al Papi Yoga. Non è certo grazie al Papi Yoga. E alle sue signore anziane. A due piotte abbondanti di puntate. Deve essere grazie agli ospiti straordinari, che abbiamo la fortuna di poter invitare ogni volta. Quindi senza ulteriori indugi, chiamo sul palco l'ospite di questa sera. Signore e signori, solo per voi Stefano Nazzi. Sono qui a fare Papi Yoga. Sì, dopo questa registrazione inizia il corso di Papi Yoga. Dietro le tende ci sono vari cuccioli di varie specie animali. Siamo tutti vestiti in maniera scura, perché parliamo con le tende. Con le tende nere, sì, è diventata una cosa... Madonna, rosso e nero, siamo all'inferno. Sì, sembra anche un po'... C'ha un che di locale scambista. Eh, anche, anche. Vero? O comunque me l'immagino così. Forse esatto. Me l'immagino forse più tende rosse e luci cupe che non tende nere. Perché vabbè, non lo so. Luce troppo forte. Luce troppo forte, è vero, bisogna mantenere un po' di mistero. Verso metà puntata che abbassiamo. Vediamo se si accoppiano. Vediamo che succede. Grazie mille di essere venuto ospire del podcast. Grazie mille di essere venuto ospire del podcast durante la partita dell'Inter in Champions. No, questo è... Questo è pesante. Eh? Da ricordarmi. Sì. Se anzi, voi mi dite qualcosa, se sapete... Ogni tanto... Se qualcuno sa cosa succede a San Siro... Fate un favore. Se solo ci fosse un modo per connettersi... Anche qua, vedi? Si poteva fare così, vedi? Esatto, era facile, senza coinvolgere Ottario da Onlululu. Stefano, per ringraziarti della tua presenza qua, nonostante la partita, si era preparato alcune domande? Sì. Come stai? Piuttosto bene. Tu? Eh, c'è un po' di mal di gola. E questo mi dispiace. Bello questo dialogo, possiamo... Si vede che sei una persona empatica, vedi? Che ti dispiace per i problemi altrui. Ti ringrazio, sono contento che tu stai bene. E ho un'altra domanda, se posso... Vai, stai, vai, vai. Che hai fatto oggi? Sono stato in treno da Milano. E poi sono andato a trovare degli amici del Post che presentavano una cosa. Qui a Roma? A Roma. Che facevano? C'era Luca Soffri. Ah. Che presentava con Sandro Veronese il Cose Olimpiadi. Che è il libro, rivista che facciamo al Posto ogni tre mesi. Ah, beh, l'ho salutato e sono venuto via. Una bella giornata. Eccitante. Ah, beh, è giusto che vai a rendere omaggio al capo. Alle Olimpiadi. All'Olimpiadi al capo. E stamattina invece che hai fatto? Ho scritto. Che hai scritto? Sto scrivendo un libro e ho scritto il ventiduesimo capitolo. Ah, cioè ne hai scritti altri primi o hai cominciato già da quello? Ho cominciato dal ventiduesimo e vado all'indietro per arrivare al primo. Sei un giallo può essere che è così. No, non è un giallo. Sono arrivato al ventiduesimo. Ce l'ho fatta. No, non è da tutti. Scrivere libri così in maniera... Ci pensi che tu studi così tanto, ti prepari così tanto per fare una puntata di un podcast e poi vieni e Stefano... No, esatto. È certo. Vedi, è un mondo straordinario quello del podcasting. Aspetta adesso che... Però sarebbe perfetto questo per il lavoro che fai tu, tu vai, che ne so, da sollecito. Che hai fatto oggi? E no. Ti dice tutte le cose. Se ve lo dicesse davvero non sarebbe male. Certo. Quindi sarebbe comodo. Io invece ho una domanda. Noi di solito chiediamo all'ospite come ha cominciato il suo percorso nella sua professione e studiando per... Perché anche noi abbiamo studiato, anche se non sembra. Abbiamo visto che tu in realtà hai cominciato a fare il giornalista subito, comunque a entrare nel mondo del giornalismo subito, appena finito, fatta la maturità. Quindi tu già da bambino dicevi sarò giornalista? Io dicevo o sarò giornalista o archeologo. Poi archeologo... Non è successo. No, no, è rimasta lì la cosa dell'archeologo e allora ho iniziato... Perché archeologo? Ma perché mi piace questa cosa di trovare le robe del passato, comunque la storia, la pre-storia, tutte queste cose, scavare... Ci potevi fare il minatore, no? Percare cose... Questa cosa qui. Prima di Indiana Jones, comunque, questa è la domanda. Molto prima, molto prima. E poi invece hai fatto il giornalista... Dove hai... Allora ho fatto... Ho iniziato in un giornale che era il mensile della classe dirigente, classe. Poi ho fatto giornali di turismo, ho fatto dei magazine per dei quotidiani, ho fatto i primi siti internet della Mondadori, dove tra l'altro ho conosciuto Luca Sofri, lavoravamo insieme. Poi ho fatto settimanali familiari, gente, ho fatto un po' di robe, ho girato. Che cos'è il mensile della classe dirigente? È una storia tristissima. Allora, c'era una volta un mensile che uscì negli anni Ottanta, in pieno, diciamo, Milano da bere, si chiamava Capital e si chiama tuttora, penso. A un certo punto il direttore che aveva fondato Capital disse, ma vado a fare un'altra cosa, dal Capitale passiamo alla classe. E così è nata classe, il messile della classe dirigente. Quindi era solamente indirizzato a... Sì, manager, imprenditori, gente che lavorava in finanza. Che articoli c'erano? Mi ricordo... Boh, ero andato in un posto dove facevano i motoscafi più belli, sul lago di Como, queste cose... Un'altra, le feste che andava di moda a liberare le farfalle, delle cose di cui mi vergogno. Però le ho fatte, siccome, come diceva Lanzaschi, io non mi pento di niente. Certo. Quella è la mia storia. Certo. E anche io non mi pento di niente. Comunque le ho fatte. Poi, sì, interviste a questi... A volte non capivano niente di quello che dicevano, soprattutto quelli che lavoravano in borsa. Anche perché mi sembra che questa sia una rivista che è tutto un modo per non parlare di cocaina. Cioè, nel senso... Le farfalle che liberiamo alle feste. Vabbè, abbiamo capito. Di quello non parlavo, non parlavo. Parlava, no? No, certo, c'era la rubrica. Cioè, ai prezzi migliori, solo... Il confronto a Milano costa tot, a Roma tot, all'Aquila, un po' meno. All'Aquila di meno, all'Aquila di meno. Abbiamo parlato prima di l'Aquila, per questo... Ok, era bello anche fare tipo degli inserti, insomma, con il primo numero costruisci la tua... La tua busta. Il tuo panetto di cocaina. La tua raffineria. Esatto. È bello quello. Ogni volta. Fatti da solo la raffineria, cazzo. Bellissimo. Inizia col bilancino. È l'unica cosa che ti possono dare. Quale marca scegliere? Altro consumo. Se quando c'è da un biglietto per la Colombia e una pistola. Esatto. Fatti strada tra i ranghi. A Sinaloa. E cavalli. E cavalli, forse. Cavalli. Sì, sì, ho imparato un sacco di cose. Ah, tutti i colori dei cavalli. L'allevamento dei cavalli più belli. Insomma, queste cose. Che bello. I ricchi. Esatto. In questo percorso hai detto che hai lavorato anche per Mondadori. E mi sa, Stefano, infatti ti voleva chiedere una cosa? Ah, sì. Mondadori, quindi ricchi. Hai mai incontrato Berlusconi? No, no, non ci siamo mai. Ma credo che non sia mai venuto in modo. Forse. Quando io ancora non ero arrivato so che il primo anno che lui aveva comprato da Mondadori mandò a tutti i giornalisti un cesto pazzesco. e tanti glielo restituirono. Credo ci sia rimasto male. Poi lui invitava ogni tanto delle redazioni a casa sua e regalava l'orologio con su scritto Silvio Berlusconi. Madonna che bello, lo vorrei tantissimo. Io non l'ho mai avuto, però della gente che lavorava in Mondadori ogni tanto veniva e diceva no. Le robe secondo me valgono un casino. Sì, secondo me adesso lo vendi a tanto. Ma dove era scritto? C'era tipo al posto di Rolex, c'era Silvio Berlusconi? Sì, 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 sì. E valeva di più di Rolex, ovviamente. Bellissimo. Era d'oro? Sì. No, non era d'oro, credo, non credo. E poi, sì, poi lui fece sparire tutte le foto. Era quel periodo lì. Che foto? Allora, lui, quando lui comprò la Mondadori adesso buonanima da tutte le redazioni, dagli archivi di tutte le redazioni fece tirar via tutte le foto sue perché non gli piacevano. Cioè, scelse lui quali foto dovevano esserci. Che bello. Pensa che fai sparire tutte le tue foto. Comunque, era avanti su tantissime cose, su questa cosa. Sì, come su Facebook oggi, cancelli con lei che non ti piacciono, lo faceva però con l'editoria. Lo faceva fisicamente, le faceva far dalle segreterie. Bellissimo. No, pregano, questa era la mia cosa. Quindi si trova questo orologio? Beh, conosco gente che ce l'aveva poi, non so, perso di vista, non so. Secondo me al mercato nero vale tantissimo. Madonna. Hai mai pensato di fare una puntata sull'attentato che Massimo Tartaglia, si chiamava, fece a Berlusconi quando gli tirò la statuetta? Non è che ci sia tanta indagine lì. Non è che ci siano robe che dice ha tirato la statuetta del Duomo, l'hanno visto tutti, l'hanno preso subito. Non è che tante cose da specificare non ci sono, certo. Non c'era dietro qualcuno che lo mandava, dici che dottor Tartaglia. Poi lui l'ha perdonato. Beh, c'era figura di là, lui fu un maestro nel perdono. Però mi ricordo, io ero piccolo, però mi ricordo che c'era la cosa che poi ci ha marciato sopra, cioè dicevano ah, non gli ha veramente fatto male, anche se forse è una statuetta del Duomo in faccia. No, no, credo che gli avesse fatto male. Ed erano saltati questi due denti. No, lui fece questo colpo di teatro spettacolare che lo misero in macchina, perché ovviamente le guardie del corpo che non erano riuscite a evitare comunque che un signore passasse da lì e gli tirasse un Duomo in faccia. Un Duomo. Credo che fossero state licenziate poi, perché come minimo. Comunque lui capì che poteva usare quell'immagine e uscì per farsi vedere, per dire a me non mi abbattono, neanche tirandomi il Duomo. Chiroe. Stefano, si emoziona. E poi hai detto anche tu sei stato vice direttore di Gente. Sì, sì, sì. E poi hai lavorato anche per Donna. Sì, vice direttore di Donna. Però mentre in Gente immagino che si parli alla gente, in Donna mi viene da pensare che si parli alla Donna. Sì, a una. Come si fa? Una rivista come Donna, come si dice dirige? Cioè nel senso, Donna è una rivista per donne e quindi uno si deve porre la domanda cosa vogliono le donne, cosa vogliono leggere le donne. Beh, era una rivista abbastanza atipica. A dirigerla era D'Aria Bignardi. Era molto strana, fatta di moltissimo testo, di racconti. quindi non era proprio un giornale femminile nel senso classico. Infatti ci hanno chiuso dopo due anni. Invece Gente, che infatti non parlava a una donna, ma a tutta la gente, è andata avanti. Sta andando avanti. Sta andando avanti. Ma come si può definire gente? Perché non è una cosa tipo non scandalistica, però magari più... No, nel mercato sono i settimanali familiari. Familiari? Familiari si chiamano. Ah. Cioè quelli rivolti alle famiglie. Però c'è pure gossip, queste cose qua. C'è una parte di gossip, parte di spettacolo e parte di attualità che poi è la cronaca. Però è diverso invece, cioè anche oggi, ecco... Sì, sono concorrenti. Concorrenti. Perché mi ricordo che oggi era uscito invece con le foto di Salvini nudo. Però... Uno, sì, sì, quella a letto con... Come si chiamava lei? No, lui con la gravatta, solo con la gravatta e stava così. No, poi c'erano le foto di lui a letto. con la ex che poi l'ha lasciata. Come si chiama? Eh, io sono scarso in gossip. Non mi ricordo. Come si chiamava? Ah, la Isoardi. Isoardi, che salutiamo una... Sì, sì, è vero. Amica. Era lei, l'Isoardi. Era lei nella foto con... No, no, era lei a parlare. Era lei a parlare. È qua, no, sì, certo. Viene sempre, viene tutti i martedì e oggi finalmente. Non avete mai fatto cose di questo tipo a gente, no? Beh, sì, ci saranno state, ci sono state. Ah, quando c'eri anche tu? Non Salvini Nudo, no. No, però dico politici che resi simpatici da foto o se o semplicemente... No, mi ricordo Renzi con le nonne. Non nudo, spero. No. No, ok. Ok. Sì, sì, c'era spesso questo tentativo da parte dei politici, ma sai, essendo giornali appunto rivolti alle famiglie che viaggiano moltissimo in certe... Soprattutto in provincia, in certe... Diciamo, tra la gente appunto, venivano... Cioè, era molto ambito a un certo punto. Quando arrivavano le campagne elettorali c'erano politici che si proponevano. Erano loro a proporsi con la nonna, eccetera. E poi dicevate, sì, facciamo. Mi piace la cosa che Renzi fa. Devo fare un servizio. E voi dite, abbiamo qua delle nonne. Non era lui. Lì c'è tutta la sua campagna elettorale che dice, allora, copriamo i familiari però dobbiamo inventarci qualcosa. Prendiamo le nonne. Quell'altro, mettiamolo nudo con la cravatta bianco, rossa e verde. Berlusconi non mi ricordo, ma non aveva... Berlusconi col cani, quello è tipico. Con i cani, sì, sì. Ma invece Vannacci dov'è? Adesso dove è uscito? Vannacci che fa... Vannacci non so. Vannacci che calcia l'acqua. Che calcia l'acqua. Non so dove è uscito. Non so dove è uscito. Non sono informato su cosa calcia Vannacci. Sul general. Poi sto per fare un salto nel futuro, Stefano. Posso? Fai quello che devi. Quando vai dal post a dire vorrei fare un podcast vorrei fare indagini e vorrei che fosse un podcast tu vai lì dicendo voglio fare un podcast perché io mi sento questi podcast qua. Quali podcast erano? No, no. Ma non è andata così. Allora, io lavoravo al post parlando con Francesco Costa che allora... che aveva il suo vecchio podcast. Sì, lui però era anche responsabile dei podcast del post. Ci siamo detti ma è stata una cosa proprio annata così parlando è venuta insieme questa idea. Ci siamo detti proviamo a fare un podcast che racconti la cronaca come raccontiamo il resto. Cioè spiegando, cercando di spiegare le cose spiegate bene questa cosa qui e di farlo con un linguaggio diverso da quello che utilizziamo di solito che viene utilizzato di solito nel raccontare la cronaca. È nato così. Che podcast ascoltavo di... No, non è che ascoltassi. Non solo di cronaca anche in generale se ascoltavi... Vabbè, ascoltavo Lucarelli quelli che faceva su Radio DJ ho sempre ascoltato Barbero dal lato storia archeologia però non ascolto tanto podcast di True Crime perché mi basta cioè troppa roba ci manca anche che mi metta ad ascoltare pure gli altri ma non ti capita cioè dopo che racconti un sacco di storie comunque che dici da noi cioè all'inizio magari è stimolante farlo però dopo un anno dici no comunque ti appassiona questo continuo ad appassionare il fatto di parlo ogni volta sì sì perché le storie poi sono tutte diverse l'una dall'altra sono le persone sono tutte diverse le cose che succedono no non no non mi annoia mi sembrerebbe anche brutto annoiarmi però poi non rischi cioè che finiscono le storie cronaca nera e dici come faccio adesso no tu non hai idea di quante ce ne siano ah sì vedi che non segui no non seguo le cose no no ci sono tante storie ancora da raccontare sì ho quest'altra tu fai questo mestiere da tanto tempo di cose ne hai viste tante visto che hai conosci tante storie di crimini pensi che riusciresti a commettere un delitto e a farla franca no ma non io nessuno neanche tu no io no perché non appunto non sono esperto ma no ma magari tu hai più la vocazione di me il più talento non puoi saperlo finché non provi vediamo vediamo come no 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 adesso no come dice Luciano Carofalo capo ex capo del RIS che cito non esistono delitti perfetti ma solo indagini imperfette ti piace questa frase molto bella bella no 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 ma a parte che io sono un casinista quindi non riuscirei non lascerei traccia ovunque ma chiunque lascia le tracce e poi faresti una scia di omicidi ma uno ogni primo del mese e dopo pochissimo metterebbero insieme i pezzi del puzzle ma forse no poi farei lo speciale altro omicidio ogni due mesi giusto solo a pagare per gli aboli poi gli omicidi a teatro eccetera sarebbe bello un universo parallelo in cui tutti gli omicidi che sono che esistono in realtà sono tutti lo stesso serial killer alla fine si scopre che sei tu tutti 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 quelli ultimi insomma vorrebbe essere poi due racconti però sai dei dettagli è plausibile vorrebbe essere bello non possiamo escludere questa non si può escludere ok che succede è stata opera sua ti ha messo qualcosa nell'acqua per non lasciare tracce per il premio del pubblico del post ah già che c'è questa cosa che siamo stati rivali rivali per quel premio ah ma l'avete vinto voi sì no l'abbiamo vinto il premio del pubblico voi avete vinto il premio del pubblico io ho vinto quello miglior podcast dell'anno sì infatti abbiamo rosicato più noi era per quello abbiamo vinto tutti e due sì sì infatti quindi siamo tutti contenti non c'è bisogno di ucciderci a vicenda possiamo lasciar perdere sì sì possiamo seppellire l'ascia però per esempio vedi il tappeto serve un casino cioè se io adesso ti ammazzo qui poi ti avvolgo e ti porto fuori e poi è comodo se non avessi il tappeto non riuscirei ad avvolgerti però poi non lascia le macchie il tappeto no sì ma però già è un primo passo il tappeto sarebbe meglio lo vedi nelle scene dei film quando per esempio Joe Pesci in quei bravi ragazzi entra e c'è il telone di plastica e tu già la vedi ah vedi grande cioè noti queste piccole cose tu dici eh no certo il telone di plastica serve a non sporcare e non dover poi fare lo sbattimento di pulire e poi dove lo butti però secondo me il telone di plastica lo smaltisci poi soprattutto ai tempi di Goodfellas c'era un modo come smaltire un telone di plastica a New York le seppellivano sì sì nell'umido no dove va a tinti nel vetro così tu hai una una tua domanda sì adesso che insomma l'indagine va avanti da da un bel po' sì quasi due anni ed è insomma uno dei se non il podcast crime di riferimento addirittura ha creato l'attesa c'è il primo del mese esce finalmente una nuova puntata e piace piace a tutti hai degli haters cioè una volta che raggiungi un certo livello ci sono persone che invece ti vengono a dire ah ah no persone che puntualizzano su qualsiasi cosa sì ma haters no però persone che dicono ah ma guarda che tu hai detto quello però non è andata esattamente così quello sì ma haters no ci dialoghi con queste persone che ti dicono non è andata così e tu dici sì a volte replico a volte no poi a volte fai errori per esempio quando ho detto San Lazzaro di Savena che è San Lazzaro di Savena mi hanno massacrato vabbè ammazzo poi una volta in un podcast ho parlato di reato penale mi hanno scritto cento avvocati che hanno ragione il reato è penale per forza non esiste il reato non penale però insomma l'hanno presa un po' troppo su serio non è un errore così grave no è vero lo facciamo tutti io lo faccio sempre non faccio altro è brutto che se fosse pubblico il commento uno dice beh l'ha già scritto e puoi dire guarda c'è già uno che l'ha già scritto non lo rifare se ti arriva via mail questa cosa qua non c'è neanche mi arriva via mail sia nei commenti però dicono se però è privato non puoi neanche dire guarda me l'hanno scritto in 500 scusa l'ennesimo e quindi non ti viene voglia di commettere omicidi in questi casi no ho corretto ho tolto penale e ho detto guardate ho corretto basta chiudiamola qui perfetto che bello Stefano stai provando a indurla in tentazione invece è bastato correggere no io vedere se sei un diavolo scarso sì ma senti invece una domanda tu hai anche le statistiche immagino di chi segue il tuo podcast in genere chi è l'utente medio di indagini allora più donne età 30-40 anni basta questo so più al nord che al sud perché più donne secondo te mi trovo impreparato no credo che abbiano una sensibilità maggiore su certi temi che gli uomini abbiano più un atteggiamento rispetto alla cronaca di dire ma perché ascolti quelle schifezze questo è il senso però è strano perché effettivamente tutte le cioè le persone la maggior parte forse le persone che conosciamo che ascoltano che ascoltano indagini sono donne effettivamente ma anche chi guarda che ne so serie di busu serie killer eccetera sì io non ho non ho una risposta ma credo che non ce l'abbia nessuno se non appunto una maggiore sensibilità e attenzione a quello che succede agli altri invece noi uomini già sappiamo come si uccide non ci interessano queste spiegazioni quindi finalmente dopo che donna per soli due anni è durato hai trovato con un podcast in modo per comunicare è quello che voleva il sangue doveva essere quello una rivista io donna tutti i serial killer bellissimo tra l'altro su indagini ho anche una domanda questa è una domanda che arriva da Nicolò Falcone stand up comedian dipendente del comune di Venezia padre marito e campione del mondo di monopoli in carica la butto là quindi comunque è una domanda di un certo livello buongiorno vezzo propongo una domanda per niente adesso senza faccio limitazione questo non era veneto però no ma lui il Falco è un po' così questa è sua perché i delitti o comunque le storie drammatiche hanno eco mediatiche differenti mentre si può trovare un parallelismo tra gli interessi che hanno suscitato Alfredino e Cecchettin ossia il cavalcare e la speranza del pubblico perché Cogna Vetrana Perugia Garlasco Mostro di Firenze dal punto di vista giornalistico sono di serie A mentre altri tecnicamente interessanti non suscitano lo stesso cancan mediatico penso alla Dispoli Roberto Succo al Mostro di Udine come vai? Roberto Succo lo cita perché è di Venezia c'è un dato purtroppo che è quello le storie che riguardano i bambini o comunque i ragazzini o comunque piccoli cioè persone più indifese hanno più più rilevanza poi ci sono delle cose che nascono per esempio Perugia perché ha avuto questa rilevanza enorme perché era una storia uno sceneggiato già pronto lei americana disinibita lui sottone che si baciano davanti alla casa del delitto ma lì va avanti tre anni a raccontare quella storia cioè ci sono degli elementi che poi rendono le storie facili da raccontare e viene costruito attorno tutta una quasi una sceneggiatura cogne per forza di cose c'è una madre accusata di aver ucciso suo figlio è una cosa proprio per molto impensabile quindi immediatamente divisiva che crea infatti c'era la divisione una mamma non può aver fatto questo se una mamma può fare anche questo però ci sono anche altre simili perché proprio cogne e non altre che sono successe anche dopo di delitti simili beh hanno avuto rilevanza però sempre però cogne cogne è un altro caso perché anche lì lei si prestava moltissimo all'attenzione mediatica perché lei accusata guarda c'è l'avvocato il suo primo avvocato che poi anni dopo disse che il caso di Cogne è stato il primo in cui la televisione è entrata a far parte della strategia difensiva cioè lei sospettata del delitto andava in varie trasmissioni televisive cioè era proprio una scaletta messa giù dalla difesa perché creava empatia perché la sua sofferenza creava solidarietà in molte persone e siccome poi quello che è l'umore della gente comunque serve in un processo serve tutto questo funziona per questo alcuni casi anche sono più televisivi di altri però non è rischioso mandare una persona che potrebbe aver ucciso qualcuno in televisione cioè non potrebbe tradirsi o dire una cosa sbagliata perché c'è questa fiducia beh credo che una persona venga molto preparata prima in questo senso poi sai lei lei sosteneva ha sempre sostenuto e ha sempre probabilmente creduto questo poi disse la sentenza di essere innocente infatti la sentenza disse che lei aveva agito in questo stato crepuscolare orientato che è una strana diagnosi per cui una persona a un certo punto commette qualcosa fa qualcosa che non avrebbe mai fatto normalmente e immediatamente dopo se ne dimentica quindi se è vera questa cosa lei era convinta è sempre stata convinta di essere innocente quindi non c'è il rischio poi comunque un rischio che ti prendi se tu vuoi tu da giornalista appunto che fa un tipo di di racconto che cerca di non spettacolarizzare queste cose come ti poni nei confronti di questo uso dell'immagine di persone accusate no mi pongo che io cerco di raccontare le cose in un altro modo cioè allora se c'è per esempio ci fu un'intervista tanti anni fa che provocò delle polemiche infinite quando Paolo Bonolis a Domenica intervistò Donato Bilancia il serial killer il più grande serial killer italiano se è un'intervista vera per me è anche giusto farla cioè se si aiuta a capire quando la storia in televisione diventa spettacolarizzazione diventa tipo a vetrana dove appunto i protagonisti diventano personaggi televisivi allora diventa un'altra cosa e quindi come ti poni nei confronti del plastico di Cogne di Bruno Vespa non mi pongo non è non so a cosa possa servire a vedere ma sai c'è un'altra scena relativa a Cogne che a me è rimasta impressa mi ricordo del conduttore che aveva in mano uno zoccolo e un mestolo e soppesava e chiedeva alla telecamera e quindi a tutti noi è stato lo zoccolo o è stato il mestolo tu ridi però è successo e la gente è a casa e mi ricordo anche io non può essere stato il mestolo è troppo leggero è stato lo zoccolo quindi c'era la divisione tra quelli che sostenevano fosse stato lo zocolo e è tutto così è quel tipo di di racconto della cronaca che forse è iniziata proprio con Cogne ed è andata avanti molto negli anni ad Avetrana Garlasco Perugia che forse adesso sta un po' diminuendo ma ci stanno storie che tu dici cioè che di cui magari non non te la senti di parlare cioè che tu dici questa qua è troppo non allora no secondo me tutte le storie possono essere raccontate ci sono storie e sono ancora quelle che riguardano i bambini o minori che è più difficile perché ti danno una carica emotiva maggiore siccome io tendo a cerco anzi ho come obiettivo quello di non caricare di emozioni cioè anzi non fare una cosa emotiva ma fare una cosa fredda cioè fredda oggettiva e poi le emozioni uno le vive ascoltandole per i fatti allora quelle storie sono più difficili sono più difficili ad ascoltare infatti per esempio le ultime due che ho fatto uno riguardava Tommaso Nofri che aveva tre anni fu rapito e ucciso e l'altro Desiree Piovanelli che aveva 14 anni ci sono persone che mi hanno scritto io queste non riesco ad ascoltarle però non è che per questo non devi raccontarle cioè perché deve esserci una cosa terribile che si può raccontare un'altra poi le vittime sono vittime comunque cioè anche se hanno 30 anni e non ne hanno 14 Prima hai fatto riferimento alla spettacolarizzazione della televisione e quando hai fatto il passaggio diciamo nel 2023 mi sa che hai fatto Delitti in famiglia su Rai 2 come è stato il passaggio alla televisione cioè quindi dall'audio con pure le immagini il supporto come ti sei trovato faceva molto caldo facciamo perché perché c'hai queste luci e siccome andava in onda in autunno ma l'ho registrato ai primi settembre mi avevano fatto mettere una giacca pesante ed è stata una tortura a parte quello il modo di raccontare per me è lo stesso che sia il podcast che sia la televisione che sia come scrivo io ho quel modo di raccontare le storie e quello rimane non cambia e rimane quello anche nello spettacolo se spettacolo si può chiamare cioè tu adesso vai sei in tour fai delle cose dal vivo all'Arcimboldi all'Arcimboldi a Milano al Colossea a Roma olimpico all'Olimpico sì al Colosseo sarebbe bellissimo sarebbe straordinario io e Russell Crowe stai pensando che ancora che uccide i gladiatori all'Olimpico scusate sì non so come chiamarlo no lì racconto una storia la racconto dal vivo è un'indagine live con ovviamente l'aiuto di altre persone con delle immagini che faremo vedere però è il racconto di una storia è il racconto di una storia che poi rimane per quelle persone che l'hanno visto al vivo o viene anche registrato e diventa qualcosa no rimane per per chi l'ha visto dal vivo per chi lo vede e comunque l'Arcimboldi non è una cosa che ho già fatto in indagini sì no certo immagino e l'Arcimboldi sono 1800 persone quante persone di più 2400 2400 pare di sì complimenti sono 2400 persone sei sei teso sì beh non adesso lo sarò sarebbe stato adesso qui sarebbe difficile però sì se ci penso dico sì anche perché sono stato a vedere sono stato sul palco è enorme tu ci sei stato sì sì è grande è anche strano vedere fuori comunque è come se fossero tanti teatri messi uno sopra l'altro cioè tu pensavi questo mentre eri sul palco sì c'è qua vedi queste persone immagina che ce ne sono altre così sopra mi stai rassicurando mi stai mettendo il mio agio sì sì però quando stai lì e parli di omicidi alla fine ti rilassi ti rilassi stai nel tuo va così sì 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 ci sta anche la cosa dell'orchestra all'Archimbold ah sì c'è anche la cosa dell'orchestra puoi riempirla quella riempi la puoi riempire cioè di persone cioè di pubblico di quello che vuoi di acqua di acqua sì sì ci metti delle cose no sennò rimane questo buco davanti che non è non è ideale quindi mettici mettici quelli che pagano di più il biglietto e poi si fanno la foto insieme a te ah ok che è sempre bello sì comunque un po' di di ansia per forza sì sì però andrà bene è smediato andrà bene non ti preoccupare senti tu quindi allora sei appassionato di di crimini ma vedi anche serie tv sul tema sì sì ho una devianza per le serie del nord quelle sono tutte uguali iniziano sempre col drone su questi boschi innevati fateci caso sono tutte così nord Europa nord Europa sì svedesi finlandesi islandesi mi danno pace solo per questa cosa non perché sì sì per l'atmosfera l'ambiente perché uccidono in maniera più tranquilla più delicata no però le serie per esempio del nord Europa e anche quelle anglosanze quelle inglesi sono terribili sono di una di una crudezza si fanno molte meno menate che da noi sul rappresentare la violenza e la cattiveria consigliacene qualcuna di quelle che vedi sia violente sia quelle che ti mettono pace ma no cioè che sto guardando in sto periodo è per esempio True Detective lì c'è è ambientato in Alaska quindi non vedono neanche la luce ma ce ne sono tante tante Mindhunter Mindhunter è quella su quella Mindhunter è quella sui due sui due agenti dell'FBI che inventarono il serial killer cioè che scoprirono che diedero la prima definizione di serial killer che è di fatto una persona che uccide tre o più persone con uno spazio di tempo tra l'uno e l'altro che viene chiamato intervallo emotivo adesso alcuni studi dicono che serial killer è anche chi uccide due o più persone che è diverso dall'omicida di massa che le uccide tutte insieme insomma sono le classificazioni poi gli stessi serial killer hanno classificazioni molto c'è il serial killer lussurioso c'è il serial killer che giustiziere c'è il serial killer insomma ce ne sono tanti tipi qual è il tuo preferito? non ci ho mai pensato alla classifica dei serial killer non puoi pensarci adesso così no perché qualunque dica poi gli altri ci rimangono male certo non vogliamo urtare i loro sentimenti chiaro che poi tra l'altro i serial killer sono la maggior parte non so di tutti ma bianchi sono innanzitutto uomini cioè è sotto il 5% la la percentuale di donne serial killer a volte ci sono quelli che agiscono in coppia e ci sono stati bianchi giovani divisi in due categorie macro categorie che sono organizzati e disorganizzati gli organizzati sono quelli attenti che lasciano la scena del crimine senza loro senza lasciare tracce senza lasciare prove che sono socialmente di solito inseriti nel senso che Dead Bundy per esempio era un personaggio stimato della sua comunità era bello elegante eccetera serial killer clown veniva mandato alle feste dei bambini addirittura i disorganizzati sono solitamente quelli che hanno delle patologie però per esempio prima città di Gio Pesci tecnicamente anche un mafioso è un poe no non Gio Pesci povero Gio Pesci non Gio Pesci di per sé no il il personaggio che interpreta quella è la criminalità organizzata è un'altra cosa la criminalità organizzata ha una struttura per cui ha un obiettivo fare soldi e per raggiungere quell'obiettivo arriva anche uccidere poi essendo una società un rispecchio alla nostra società anche la criminalità organizzata all'interno ci sono quelli più buoni quelli più cattivi gli psicopatici Gio Pesci in Goodfellas era abbastanza psicopatico però appunto non viene considerato serial killer perché per i soldi no perché serial killer ha un'altra caratteristica fondamentale il movente di ciò che fa è insito nella sua struttura psicologica la criminalità organizzata uccide per soldi o per potere il serial killer uccide cioè perché psicologicamente la sua struttura psicologica lo porta a uccidere comunque è più accettato il serial killer no il mafioso cioè per noi se ci pensi tu vedi il padrino comunque ti identifichi invece il serial killer no chi è sto matto noi siamo scemi no no questo è un pazzo invece l'altro uccide più persone però ma questo dipende sempre appunto dal racconto cioè il padrino avrà ucciso molte più persone o fatto uccidere molto più persone di un serial killer però tu metti Marlon Brando tu fai serial killer Marlon Brando che fa un serial killer alla fine ti piace anche quel serial killer probabilmente è tutta questione di immagine esatto secondo me se conoscevi Todorrina non pensavi questo è un grande o mazzare no Todorrina no però magari appunto c'era l'altro giorno Matteo Messina De Mar beh già intorno a lui si era costruita un'immagine di imprendibile quello che non riuscivano mai a prendere più colto degli altri dipende molto come lo racconti Todorrina è stato sempre raccontato per quello che era c'è un ignorante becero quindi dipende ma li soffendono anche qui gli eredi i parenti no e di fatto che ascolta nel podcast non fanno altro che sentire dintoria a Corleone non si sa mai comunque tra l'altro la figlia apprezziamo tutti noi li salutiamo tutte le visualizzazioni sono buone ma invece al di là delle cose truculente vedi anche altre serie oppure si si che ti vedi spionaggio ah ma sempre sempre là si fondamentalmente si tipo tu friends proprio non te non ce la faccio no si vedi una due puntate poi c'è sempre ste facce un po' da cretini e in friends particolarmente però poi decolla no guardo il calcio guardo dove invece hanno queste facce da da volpi no cioè guardo dei film anche delle cose che non c'entrano con però diciamo che le serie per me sono true crime sono crime anche perché la maggior parte sono crime non è che true detective che adesso vabbè adesso poi non ho visto l'ultima però senza spoiler che questa qua c'ha una piega un po' per ora mistica diciamo così c'ha una piega molto sì magica che secondo me poi invece riporteranno sulla terra mi piace pensare no neanche io ho visto l'ultima le hai viste tutte le vecchie serie di true detective e quali ti sono piaciute? beh la prima la prima la prima e la seconda tu l'hai capita perché io la seconda sto da dire no la seconda proprio non è non è riuscita quella e quella con con Vince Wogan e Colin Farrell e Colin Farrell no brutta la seconda brutta la terza invece era tornata a essere buona secondo me e questa è bella questa a me piace poi a me veramente affascina quel mondo tu riusciresti a vivere lì no ci penso assolutamente no è pazzesco cioè senza luce sto freddo sì dici ma che state a fare i minatori poi fanno caschi in un lago ghiacciato tra l'altro è ambientato in Alaska ma è girato mi sa proprio in Islanda quelle cose mi sa che sono l'avevo letto da qualche parte è proprio l'Islanda e sull'Alaska ho sentito in un podcast di comici americani quindi a prendere no con le pinze di più però c'è tipo una proporzione uomini donne sballatissima perché i lavori che si fanno in Alaska sono lavori per uomini minatori appunto e quindi ma ci sono un sacco di città in Alaska dove il rapporto è veramente dieci uomini per ogni donna e quindi sono questi posti dove fai sei mesi di buio e vedi solo maschi minatori è una notte lunghissima non passa più coperti in maniera sì o stepellicce no no poi io sono affezionato a Jodie Foster da quando era ragazzina in taxi driver quindi pensavo se erano innocenti a sto punto anche però io la prima volta che Jodie Foster compare è quattordicenni in taxi driver quindi in Alaska più uomini che donne Alaska molti più uomini che donne non ti ascolta nessuno lì non hai i fan in Alaska infatti questo ne parlavano dei comici che dice quando vai in tour e passi per l'Alaska se capita che incontri una ragazza che viene allo spettacolo ci chiacchiere al bar ti imbruttiscono perché non è visto di buon occhio che arrivi da fuori a parlare con le loro donne tutti uomini trampiani perché lì è la la maggioranza repubblicana pro Trump che un po' lo capito cioè nel senso no però se stai in un posto sei mesi di buio sei da solo sei isolato c'è tutta una serie di cose io devo badare a me stesso ho il mio fucile no no certo c'è tutta la retorica repubblicana che là no poi c'è tutta la questione dei nativi che invece sono trattati di merda è l'Alaska che fu comprata dagli Stati Uniti alla Russia per due dollari due dollari per pochissimo conviene no no per pochissimo la Russia vendette l'Alaska cioè abbiamo una Siberia dice che c'è fama con due due cose no c'hai tu una cosa c'è una sottorubrica all'interno di questo podcast che non posso tirare fuori sempre però con certi ospiti sì e ci tengo sempre a farlo tu non hai i capelli no e neanche io a che età hai capito che era finita? sto pensando che era finita finita? che comunque ah no beh c'è stato un momento in cui ho iniziato a dire me li raso perché a che età? 40 ah 40 tu? 22 ma tu come te li con l'elettrico? allora io sono sempre andato con l'elettrico proprio classico a zero però adesso sono passato a quello con tre pallini che che te lo fa a zero ma quello che ha l'impugnatura non la metta non la metta faccio vedere la foto aspetta diciamo il nome del brand ma cosa sono i tre pallini? adesso li faccio vedere cioè non te lo fai mai con la lametta io spessissimo infatti mi taglio anche se non c'è il sangue tu no non inizio bene la giornata no ah bello e funziona bene questo qua funziona molto bene lo faccio vedere a nessuno non lo vedrete mai funziona molto bene perché te lo fa a zero te lo fa rispetto a quello elettrico te li fa a zero e i capelli restano dentro la cosa quindi te lo puoi fare non per forza in bagno non cadono i capelli rimangono dentro quindi lo fai al computer perché? che altri rasoi avevi che ti cadevano i capelli no però se fai zzzzzzz cioè poi ti cascano invece là rimane tutto dentro e non è male uso quello la lametta non la uso perché ho sto ciccetto qua dietro che ho paura di di tagliarmi tu invece? io ho i capelli ma sono inutili dici perché? ma a un certo punto che te ne fai? vabbè mi rendono bello stavo pensando proprio quello che doveva essere quello il motivo e tu ti guardi e dici beh però però faccio questa cosa sono bello tra l'altro ce le ho anche troppo lunghe mi stanno perché mi crescono guarda lui ha un rasoio che possiamo usare anche adesso possiamo provare mi crescono lateralmente anziché però scusa se continuo ma 40 anni e quindi cioè tu hai una grossa porzione di vita dove avevi i capelli sì e poi a un certo punto non c'è mentre io insomma però giovane non l'ho vissuta malissimo cioè non è che me ne sia mai fregato tanto poi una volta che le radi capisci e dici proprio vabbè dai a posto così va benissimo sì sì va bene così cioè all'inizio ti scoccia un po' a te è scocciato sì ma io mi è scocciato più la fase prima perché comunque quando li avevo li iniziò a perdere erano sempre di meno poi comunque c'erano 19 anni 20 anni era un po' presto perché quello è già prognostico cioè tu sai dove stai andando è inevitabile e a 20 anni è presto perché comunque ancora quasi tutti praticamente tutti hanno ancora i capelli sì è stata una cattiveria nei tuoi confronti sì però poi invece una volta non è stato giusto no però una volta che li ho arrasati la prima volta ho detto vabbè era così semplice mi sono tolto ti sembra il problema no no io ascolto perché poi è comunque un timore che io adesso siccome ho una una vertigine qui ho sempre avuto ogni tanto se c'è i capelli un po' sporchi sembra più più grande dico oddio è la fine poi dopo mi rilavo e va a posto sì si mette a posto quindi ho sempre un po' questo timore perché poi comincia da qua giusto eh dipende no può cominciare a me era cominciata la stempiatura ma di cosa cazzo stai a parlare guarda questo no no e ci tengo tantissimo io perché non posso fare questo discorso della mia stempiatura è un discorso che non posso fare con molti nostri certo con molti perché poi alla fine tutti i nodi vengono al pettine se posso usare questo premio del pubblico questo ci hanno votato loro per abbiamo rubato a te perché parlavamo di cazzate però finché finché era stempiatura io pensavo vabbè dai è a posto poi quando è cominciato su ho detto basta no sì su è brutto su è brutto ebbè ti faccio su è tremendo un po' di riporto Stefano vuoi fare che cosa un'altra domanda certo ma invece senti che che hai mangiato oggi allora prima di uscire di casa per andare a prendere il treno ho mangiato le lasagne dell'esse lunga le lasagne dell'esse lunga quelle come sono precotte come sono fatte sì sono cotte le scaldi nel microonde le mangi anche noi qua l'esse lunga in realtà da poco quindi non siamo pratici di questa e come sono queste lasagne dell'esse lunga ma ma tu perché avevi fretta oppure è una cosa che fai spesso mangiare cibi precotti no spesso lo faccio sì no no te lo dico perché io no sì no io sono fan di cose precotte e quindi vorrei una persona autorevole che appoggiasse questa mia no per comodità ti posso dire cioè il Vittelton dell'esse lunga ma ancora devi riscaldare quello te lo mangi così no no quello te lo mangi così ci sono un sacco di cose il Vittelton la lasagna ma l'esse lunga no poi ci sono le pasta asciutte dell'esse lunga io non c'ho voglia di 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 faticare di fare da mangiare ti voglio bene e andavi a Milano mi identifico molto in questa cosa e e invece a colazione che mangi Stefano è così stavo pensando a parlare dei capelli scusa no no ma io così ti voglio un rapace di solito mangio delle fette col burro d'arachidi senza niente fette biscottate e burro sì o fette biscottate o quelle vasa scusa però se ti mangi un vasa dai lo sapete cosa sono i vasa ignorante lui che è vasa vasa sono tipo gallette del nord anche quelle del nord d'Europa se tu le prendi e ci metti sopra il burro d'arachidi vedrai che non senti il sapore di galletta ce la copre tutta oppure no posso muovere io adesso non ti saprei dire posso muovere però un'obiezione però se qualcuno va a comprarle ma ce li ho a casa adesso scrivo no se metti il burro d'arachidi sul vaso e poi lo mangi non smetti di respirare perché il problema del burro d'arachidi è che tu lo metti in bocca e poi sì no è pazzesca questa roba è pazzesca però ci sono dei burro d'arachidi un po' più liquidi tutto sta nel saperlo scegliere all'esse lunga all'esse lunga stiamo facendo sì perché di solito burro d'arachidi con un po' di marmellata e scappa via tu cosa mangi invece? ecco io yogurt bu no yogurt al cocco no alla vaniglia e al caffè anche è perché c'ho reflusso e quindi devo mangiare non posso mangiare cose troppo però il burro d'arachidi fa bene sì anche lo yogurt stiamo scendendo dai capelli stiamo mettiamoci l'alparo digerente arriviamo più in basso io invece ho un'altra domanda c'è scusate devo tornare c'è una rubrica e stiamo scendendo quindi allora nel corpo no sì la faccio eh sì dai c'è una rubrica che io qui non stavo pensando però c'è una rubrica all'interno di questo podcast che si chiama cacare in discoteca per cui chiediamo all'ospite se ha un aneddoto di una volta in cui gli è capitato mai di dover andare in bagno nel momento sbagliato al posto sbagliato quale posto è il momento sbagliato della discoteca ma non deve essere per forza una discoteca no perché in discoteca non è mai successo credo al Brico Center è successo era un sabato mattina potrei farci una storia di indagini era un sabato mattina è successo e là come funziona poi chiedi scusi dov'è la tua letra eh certo scusi c'è un bagno io uso questa forma c'è un bagno se ti dicono no lì sai legarsi però al Brico Center forse puoi trovare è una tazza delle tazze puoi costruire sì sì ti fai un bagno così tiri su quattro pareti veloci sai che dietro hanno cose delle tavole di legno e te le segano scusi mi fa un bagno mi fa un sebbac al volo se ce la fai a resistere puoi anche farlo sì quello e poi direi andiamo avanti no però aspetta ho questa domanda allora pertinente il miglior cagare in discoteca in una delle storie che hai raccontato nei delitti forse ce n'è uno che mi viene in mente però io devo te lo stesso eh c'è Rudy che dice esatto che che a Perugia vabbè vai è brutto da dire perché c'è un omicidio e comunque vai in bagno e non tira l'acqua che guarda che è strano perché avrà pensato le mie tracce restano poi ho scoperto io facendo appunto che lì non c'è il DNA nelle feci? no però sulla cartigenica sì quindi non si sarà neanche pulito dice stai dicendo no sto dicendo che il DNA non riesce a ricavarlo dalle feci però se uno si pulisce poi lascia lì la cartigenica invece quello è a contatto ok ok strano quindi uno può essere mettere cose e essere impunito se lascia anche tracce di questo tipo però in effetti è una cosa che credo si siano chiesti in tanti anche giudici cioè perché ma l'aveva già fatto a casa di amici di andare in bagno senza tirare la catena no e si vede che non gli importava maleducato tra le varie cose c'è una domanda che faccio a tutti gli ospiti io prima chiedevo agli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione delle droghe leggere però avevo smesso di fare questa domanda perché tutti mi davano la stessa risposta quindi la domanda che faccio adesso è che rapporto hai con la marijuana mi dai modo sono stato a New York dieci giorni fa siete stati recentemente è impressionante l'odore di erba che senti in tutta la città è diventato l'odore di New York perché da un anno hanno legalizzato quindi la gente fuma ovunque nelle strade tu esci dalla metropolitana e ovunque c'è che rapporto non fumo non fumo non fumo più da tanto ho fumato tanto hai fumato tanto sì non fumo più da tanto quando che età di che età parliamo 20 dai 20 fino ai più o meno 30 sì no ma fumavo tanto prima poi ho fumato meno mentre lavoravi per i ricchi no no è tantissimo perché quelli sono gli anni caldi quando dici fumavi tanto qua di che stiamo parlando anche prima di entrare in classe la mattina quindi tanto sì e poi hai smesso perché perché che non stavo bene cioè non mi piaceva più cioè ti faceva venire i pensieri non i pensieri ansia sì eh sì è quello che succede soprattutto se fumi prima di entrare in classe a un certo punto la droga viene a chiedere il conto e dice guarda è salato mettiti comodo comunque è sempre così a tutti fino ai 30 più o meno fumano tutti i nostri ospiti e poi dopo gli viene l'ansia ma c'è tanta gente conosco tanta gente molto più grande che fumano ogni tanto a New York fumano evidentemente tutti perché se andate a New York fateci caso è veramente però loro sono americani quindi gli fa meno male la droga cioè se la collano più serenamente noi siamo italiani siamo cattolici e quindi la droga ci fa più male questa è la mia teoria ma ci prende tantissimo io abito in una zona di Milano dove ci sono tanti locali quando d'estate lascio aperta la finestra mi arriva non è vero penso anche a Roma sì sì i giovani tantissimo e poi però a un certo punto arriva arriva qualcosa un demone o forse Dio che ti dice non puoi più fumare o forse appunto il fisico sì può essere appunto più semplicemente ho una domanda visto che tu sei stato in America in America spesso non pronunciamo le doppie hai avuto problemi no però ancora qualcuno quando mi scrive lo scrive senza la doppia z tipo grande Stefano virgola è veramente un dolore tremendo e tu li li correggi oppure dici ma dico ma come potete pensare che uno si chiami con una z sola eh eh sì non credo esista oddio chi lo sa se magari qualcuno si è fatto cambiare il nome apposto però non c'è non hanno mai fatto storie meno male no una volta ma ero in palestra sono andato in palestra mi è riuscito in una palestra e mi hanno assegnato un istruttore che vede la 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 mia cosa Stefano rosso come può aver pensato una cosa infatti poi non ci sono più andato perché non era ma non tanto perché fosse un fascista che già mi innervosiva ma perché sei proprio scemo sei dei nostri bellissimo ti ha andato quel cognome apposta perché poi che bella che lo scrivi sulla scheda scrivi scrivi nazi così che tutti sappiano in questa palestra a chi appartengo quanto quanto sollevi in palestra non so perché dopo il trauma del personale leader basta non sei più andato c'è un'altra rubrica basta è l'ultima quanta rubrica avete è l'ultima è l'ultima è l'ultima c'è un'altra rubrica che non tiriamo fuori sempre però sono molto curioso noi chiediamo a volte all'ospite qual è il tuo dittatore estero preferito ora non stiamo qua a celebrare i dittatori però questo è un podcast comico qual è se tu dovessi scegliere il tuo dittatore estero vivente non per forza beh Ceausescu aveva perché mi piaceva molto quel bacchetto di pelo di astracan nero avete presente? il pello di? il cappello di Ceausescu non ce l'ho presente? c'è il cappello di? Ceausescu no il materiale astracan ah e che cos'è? è un animale credo astracan non so cos'è l'astracan vediamo un attimo una lana cappello cos'è? Ceausescu cappello io ho le gallette waza ma quando l'hanno quando l'hanno fucilato lui aveva quel cappello Ceausescu fucilazione ah bello l'hai trovato? sono i vasari un cappotto un cappotto belliccia pregiata belliccia pregiata tu cosa stai cercando? astracan astracan ok il cappello è quel colpacco a bustina tipo militare no sia una pecora nera si la vedi? è questo si che risalta via risalta via che foto incredibile tra l'altro però non è che abbia simpatia per i dittatori si non ci sta però è una bella risposta su come si chiama il nordcoreano si potrebbero fare puntate puntate però lui veramente è quasi un buono cioè se non fosse beh lui ha la faccia da buono e questa è la roba ha la faccia da scemo un po' un po' però è un personaggio che veramente bisognerebbe capire ma tutto tutti i nordcoreani si è un mondo proprio a noi sconosciuto si quello è veramente ogni volta che mi soffermo a pensare o comunque nei podcast parla nella nordcorea ho visto uno con una scappata dalla Corea del Nord e dici è abbastanza incredibile che ci sia questo posto che è così si e va bene perché nessuno ci va cioè è quella della questione perché ci sono altre dittature dove comunque vai c'è poi passi capita è capitato in nordcorea non entra non entri ci vai con Razzi c'è andò Razzi lui faceva i tour mi ricordo anche sì Razzi e qualcun altro pure Salvini mi stava andando possibile veramente Salvini possibile insieme a lui credo forse che sia andato sì sempre con i migliori Stefano siamo siamo quasi in chiusura stiamo chiudendo e vabbè quindi che farai questi prossimi giorni scrivi il libro scrivo torno a Milano scrivi il libro ma qualcuno sa cosa fa l'Inter scusa una zero Arnautovic Arnautovic c'è addirittura si è fatto male ma molto male va bene Arnautovic va bene sto cercando Arnautovic adesso sarà una pecora no no è una persona è austriaco ah ok cosa faccio nei prossimi giorni scrivo devo registrare una puntata al post su chi e non te lo dico speravi di intanto vai in onda questa cosa per onda quando sarà già uscita ma non te lo dico lo stesso dacci un indizio no e invece il mosto di Firenze non lo fai no il mosto di Firenze voglio farlo ma ho bisogno di più spazio e quindi bisogna vedere come come riusciamo a strutturarlo se in più puntate cioè non le solite due ma farne di più perché è una storia che dura tantissimi anni inizia nel 69 va avanti fino all'86 con processi derivazioni che vanno sul lago Trasimeno ovunque Zodiac insomma qualsiasi c'è sul mosto di Firenze anche quella è una serie diciamo potrebbe partire col drone anche lì sulle campagne toscane su Scandici i droni senza Scandici senza neve certo dronata su Scandici già capiamo oramai tutti fanno le dronate metteranno prima o poi oramai oramai hanno visto tutti e lo spettacolo quando c'è l'esordio lo chiamo spettacolo 10 aprile 10 aprile a Milano Teatro a Cimboldi a Roma il 16-17 aprile 16-17 Teatro Olimpico dov'è il Teatro Olimpico? c'è proprio dall'altro lato del fiume rispetto all'Olimpico ok ci fa lo spettacolo Battista così ah sì? sì altra persona a cui ho potuto chiedere la sottorubrica non dei capelli però sì Maurizio Battista ah Maurizio Battista sì chi pensai? non so Giovanni Giovanni il Battista Giovanni Battista Giovanni Battista ma chi 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 ti fa l'apertura lo spettacolo? vuoi fargli l'apertura? c'è qualche qualche altro ah no ci saranno io credo il 10 aprile ci sarà Francesco Costa va con me se fa 5 minuti pure lui dice anche a lui ho potuto chiedere ma adesso siamo tanti stiamo solo parlando di persone calve sì dai cosa che lo facciamo sempre in questo podcast va bene Stefano allora ti auguriamo merda merda anche a voi mangia i vasa provali cioè fai un giro all'esse lunga guarda che un mondo c'è i vasa le lasagne che altro mi consiglio il salmone ci sono anche gli involtini primavera vedi tu li riscaldi e te li fai così poi ti compri col bacco da straccante stai qua ti sta rivoluzionando la vita gratis veramente burro da rachidi va bene Stefano siamo in chiusura andiamo andiamo a vedere i gol dell'Inter quindi signore e signori per favore un altro applauso per Stefano grazie fate anche a Stefano Rapone e a te lo senti no da The Comedy Club fate un applauso a voi che siete tantissimi grazie mille a tutti grazie mille a tutti e un altro applauso all'ospito ciao grazie ci vediamo la prossima puntata ciao ciao